bella a tutti ragazzi sono republic of videogames e siamo con il secondo episodio di napoleon un total war nella campagna in Italia allora un po' velocizzo allora allora l'Austria mi preoccupa allora un po' 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 Soltiamo altri due cavalli. Scusate ma sono un po' raffreddato. Allora. Qui andrò a conquistarmi Parma. Prima però devo conquistare Milano. La facciamo così. Ancora un turno. Soltiamo e poi scendiamo a conquistare Milano. La facciamo così. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che mi piace partire con degli staterelli poi vedrete, cambierà un pesco spara da chi volete ci sono ci sono non c'è non c'è no c'è non c'è non c'è scusate se sono zitto però sono concentrato si è giusto Grazie a tutti. 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 Vediamo... se... tra... tra... avremo finito... per... ... ...